Ok Gabri, allora, sono entrato nel mondo prima di cominciare a registrare, per magari vedere, infatti come mi vedi mi sono un po' infilzato con delle frecce, e poi c'ho un pezzo di lana che te lo do pure, eppure tre di carne cruda, e poi ti do una buona notizia, cioè che il 173 è andato via. Sono entrato e non c'era più, mi fa quell'effetto però della visuale che si muove, non lo so perché, ma non è che è vicino, tanto è, no ma era morto, io mi ricordo era morto, no era morto, non c'era più, no non è vicino, vabbè senti abbiamo capito che l'unica opzione è uccidere, quindi uccidimi, ok uccidere però hai delle cose all'inventario? No vabbè tanto mi rimangono, cioè no mi rimangono, tanto le riprendo, tanto sei qua in casa come ho letto, ok, vedi al centro possibile, come vedi ho fatto una fornace, ok mi metto qua, no mi metto qua, ho fatto una fornace e ho pure colto della carne qua nel mio inventario, però veloce uccidimi perché mi dà un fastidio incredibile sta cosa, ok, vedi più al mezzo perché sennò poi ti si pagano gli oggetti, ok vai vieni, 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 ultimo colpo, ok, grazie. Ok, non ti ho preso niente io, vabbè, ok, l'unica, tanto ormai avevamo capito che l'unica opzione era morire per questa cosa, ok, mi rimetto la roba addosso, aspetta, ok, la spada, le cose qui, ok, 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 allora, poi mentre andavo a giro ho pure trovato una cella, ok? Ah, bene, bene. Dov'è? Stiamo andando un po' in giro ad esplorare, ho trovato una cella, che non ho visto di cos'è la cella, però è verso di là, quindi andiamoci, dai, vieni. Beh, andiamo, vai. Bene, andiamo, magari troviamo pure una carta di livello più forte perché ho visto che c'è anche la carta di livello 5, eh, ho visto. Allora, vabbè, comunque la carta di livello 4 è già abbastanza buona. Sì, sì, beh, butto sta carne putrefatta che non serve a niente. Allora, dovrebbe essere verso di qua, è anche una struttura abbastanza grande, fluttuante e credo di vederla, sì, la vedo, vieni, 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 la vedo, la vedo. Sì, sì, anche la vedo. Hai visto che ha un muro diverso da queste altre? Sì, ha un muro, sì, ho visto, ha un muro diverso tipo con delle righe gialle, cioè arancioni più che gialle. Allora, con il solito questo colore viene usato o per fare tipo le stanze dei medici o degli SCP safe oppure per fare le messe. Ok, ok, allora, bene, andiamo. Ok, mamma mia, era anche difficile da raggiungere questo perché fluttuava. Eh, un pochino, aspetta, mettiamo un blocco qua e un blocco qua. Beh, aspetta. Vai, vai, vai. Non mi mette, comunque anche a me mi è arrivato l'effetto di SCP 173. Ah, ok, vuoi che ti uccido. Però a te dovresti risponare. No, 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 ma a me va bene se ne lo non ti preoccupare. Ok, che poi, cioè, non è per offendere, è che per, è che te, io, cioè, da me si vede la telecamera. Cioè, io, con il mio account registro, quindi a te non importa se ti si vede, è che se l'ho io, si vede tutto strano così e quindi da noi a tutti. Non ti preoccupare, comunque mi sa che siamo sopra la cella. Sì, è vero, credo anch'io. Eh, boh, però... Da qui sotto c'è l'SCP? Ah, non c'è il cartello. Qua non dà, dà sul vuoto. E, entriamo dentro? Aspetta, sì, però attento, magari c'è qualche boss. Boh, eh, aspetta che controllo pure qua. Qui dà sul nulla. Sembra tipo una mensa. Non capisci vuole l'SCP. Ti hai capito? No, ho detto che non capisco come cosa sono i cattoli. Ah, aspetta, qui, aspetta, prima di, non aprirla. Oggi, cos'è? La scatola è il cartone di pizza infinita, la scatola di pizza infinita. Ah, la conosci? Sì, la conosco, però vado a leggere un pochino di più perché non è, cioè, la conosco ma non troppo. Cioè, so il nome, so com'è fatta, ma non è che la conosco proprio da dire. Ok, vabbè, vai a cercarla, allora. Ok, ok, vado, vado. Ok, da quello che ho letto c'è scritto che è una scatola di pizza, non l'aprire. È una scatola di pizza. C'era anche l'immagine, è così, soltanto con la... È aperta e c'era soltanto una fettina di pizza. Però non so se proprio su Minecraft è uguale, però, insomma. Insomma, per niente, è molto particolare perché quando ne prendi un pezzo, si rigenera subito. Cioè, è tipo, è infatti anche il nome, scatola di pizza infinita. Vabbè. Bella, infinita. È safe e quindi non dovrebbe... Noi potremmo cibarci per quanto vogliamo. Sì, sì, non dovrebbe, non dovremmo averci, avere problemi. Vabbè, io provo ad aprirla. È comunque tanto che c'è il cartellino, non c'è il cartellino. Non è, infatti, non lo so, boh. Però vado ad aprirla? Vabbè, provo ad aprirla? Non si apre. Cioè, se premo tasto sinistro non si apre. Oh, a me è stata una fetta di pizza. A me non me lo dà. Aspetta, provo ad un tasto destro? Tasto destro? No, la posso soltanto rompere. No, no, guarda, te la do, guarda, ti do. Guarda, guarda. Un fetta di pizza, sì. Oh, me ne ho curato, a me, aspetta. Le posso prendere fatte a voi? O me ne è stata non sa. A me non me ne dà. Ma cos'è sta mafia? Non lo so perché. Non lo è? Ma vabbè, ma brutta te la posso dare. Guarda, chi hai tutti? Sì, infatti. Ma comunque io ho avuto un'idea. Ma se non sei, ha fatto una cosa, ma non è che dà qualcosa di brutto il cascafolo? C'è tipo, pittà venenata. A me non me la fa a prendere. A me non me la fa a prendere. Non lo so. Boh. Non lo so perché non... Cosa, cosa cavolo? Perché a volte mi viene l'effetto del 173? Anche a me, non so perché. Ma a te tanto o poco? A me è un pochino mi drondo la visuale. No, a me ora poco, ma prima quando ero in casa, tantissima. Vabbè, questa scatola ce la portiamo con noi? Eh, aspetta, con la quale forse la riesci a prendere, non lo so, o un piccone. L'hai presa a te? O che la raccolta io se la faccio. Dammela, dammela, dammela un attimo. Si, si, tieni. Ok. Ok, infatti mi dice, è la scatola della pizza senza fine. 458. Che numero era? Era il 458. Bene, adesso prendo questi blocchi, che magari li mettiamo pure in casa nostra. Siete legati a te? Che ora, oddio, non è che questo proprio sia molto pericoloso, ecco, anche se distruggiamo la cella, non è che... Questo in realtà è, forse uno dei più usili. Sì. Sì, infatti. Provo a prendere danno. Cioè, in realtà non devo prendere danno, dovrei perdere, prendere fame, ecco. Però, vabbè. Allora, andiamo. Andiamo a vedere... Andiamo, torniamo a casa, ecco. Rifacciamo tutta la scala. Ok. Ok. Ok, andiamo a casa, non ci dovrebbe essere nessun pericolo. Andiamo, poi quando siamo a casa mi riuscidi, perché... Dove sei? Dove sei? Ok, va bene, sì, ti sto arrivando. Ah, ok. Perché se no, non... Non mi va via questo effetto. Anche se dovremmo trovare un modo per farci andare via. Questo effetto. Ho saputo che... C'è tipo una pillola che ti fa passare tutti gli effetti. Però non so... Beh, ma forse lo sai perché? Forse perché hai detto che ci sono... Ci è duplicata la statua. E forse quella statua che c'è duplicata ci dà questo effetto. Perché o ci segue magari questa statua... O perché comunque nel mondo comunque ci dà degli effetti negativi. Boh, sì, potrebbe essere per questo. Ah, c'è un creeper. Eh, attento, attento perché... Non solo degli SCP, dobbiamo combatterci pure i mostri normali di Minecraft. Ok, è morto. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo verso casa, andiamo. Ok, eccoci arrivati a casa. Comunque a me è andato via l'effetto e... Non c'è niente di strano? Credo, sai, perché ora... Ora controllo... Ora controllo sempre. Io vado a controllare di qua. Ah, io vado a controllare di qua. C'è uno scheletro, ecco la cosa di strano. C'è un cavolo... Aia, aia, lo scheletro no, però. Io vado a controllare in casa, eh. Io vado a controllare... Oh, comunque, una cosa vorrei dire. Ho detto, ho detto, ho messo... Meno un'altra cella. Ah, ok. Ho trovato una cella nuova. Ok, va bene. Poi magari... È da questa parte. È di qua. È di qua. È di qua. È di qua. Poi magari domani testiamo quella, quindi, ok. Eh, sì. Mi fai entrare, per favore, che io non so perché, ma mi è sparita la hepat. Qua succede una cosa strana. Ok, vabbè, entra, vieni, veloce, ok. Ok, hai pezzato la pizza, bravo. Sì. Vediamo se me la dà a me. Ora me la dà, me la dà. Ora me la dà a me. Eh, vabbè, è momentaneo. A volte ti prende di antipasticità a te, a volte mi prende di amicizia a me. Vabbè, ne prendo... Eh, è vero. Ne prendo un... Tieni, te ne do dieci. Grazie, grazie. Ne prendo altra. Poi, insomma, questo lo facciamo off camera, poi, quando dobbiamo si può recuperare del cibo. Bene, quindi non ci servirà più l'altro cibo. Ok, io metto la roba qua. Ok, allora. Ma siamo sicuri che non c'è nulla fuori, sai? Perché io sento dei rumori. Cioè, spero... C'è uno scheletro. Sì, vabbè, a parte lo scheletro e quello zombie lì. Siamo proprio sicuri, eh. Ma per ora. Io ti ho detto per ora. Sta a vedere se sbuca qualcuno. Sbuca il 163. Sì, vabbè, c'è il mondo, c'è il mondo, Gabri. A parte... Oh, anche io ho visto la nuova scella, comunque. C'è... Ahia, no, mi stanno ammazzando, mi stanno ammazzando. Mi stanno ammazzando, mi stanno ammazzando. Ecco. C'è! Mi hanno ammazzato, no, io ho fatto... Non me li raccogli, eh. Quindi sto venendo a prendere di... Eh, niente, sono morto anch'io. Vabbè. Che bella fine. Adesso a me non mi fa più prendere... Eh, la pizza. Bene. Vabbè. Perfetto, proprio. Cioè, meglio di così non poteva andare, eh. Beh, io sto tornando. Però servirebbe la parquetta. Perché sto andando a un metro... Ok, aspetta che io... Uccido questo scheletro che ci dà fastidio. Muori? Ok. Mi ha dato pure un arco. Super consumato. Ma mi ha dato un arco. Vabbè, lo butto. Perché non... Però come mi servirebbe un letto? Perché veramente... Sì, allora, ti volevo dire... Sono tutt'ora della tela dello Shagai. Effettivamente io te lo... Te l'avrei dato, uno della lana. Cosa mi picchia? Mi picchiano gli zombie infuocati. Sì, vabbè. Questa serie è proprio qualcosa di fantastico. Eh, vabbè. Rimuoglio, stai a vedere. Vabbè, no, no, no. Stai a spogliando, eh. Mi sono nascosto. Allora. Ti ho preso la roba per sbaglio. Ehm... Vabbè, basta che poi ti ricordi di darmi. Sì, sì, sì. Me lo ricordo, me lo ricordo. E... C'ho pure una carta di livello 2 a caso. Mi sa che non è tua, però. Perché te avevi... Dove sei? La corazza. Non so dove sono nemmeno io. Io ti ho dato la corazza. Vabbè. Ehm... Boh. Non... Vabbè, l'abbiamo visto che... Siamo proprio bravissimi a giocare a Minecraft in modo normale. Molto. E quindi non faremo mai una vanilla. No, scherzo. E in casa non c'è niente. Fuori casa non c'è niente. Beh, direi che... Ci salutiamo qui. Penso anche io, però devo trovare i miei oggetti. Magari me li raccolgo di te. Sì, sì, sì. Te li raccolgo di non preoccuparti. Sto guardando anche... Qui nella foresta se magari c'è qualcosa che... Ahia. Che non abbiamo vi. Vabbè. Eh, ok. No, niente. Era uno scheletro. Che mi continua ad assalire. Quello scavolo di... Scheletro. Ho un cuore. Vabbè. Ho mezzo cuore. Vabbè, ragazzi. Benissimo. La fine è stata... È qualcosa di stupenda. Direi che ci possiamo salutare qui. Se questo video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi. Da proprio rinicca 08, Gabriele 0TF e tutto. Ciao, ciao. E allinea lo studio. E niente. E ciao.